oggi vediamo insieme questo trattamento di allungamento senza supporti con l'apposito pennello imbevuto di cleaner applico gel acrilico cover sul margine di stale e creo l'allungamento senza supporti scopri approfondisci tutte le tecniche di ricostruzione unghie da salone sul mio manuale la ricostruzione unghie secondo micole in vendita su amazon concludo la struttura di ricostruzione con file off pink tutti i prodotti che vedi in questo video e molti altri sono disponibili sul nostro sito leunghiedimicol.com esego la limatura strutturale con la tecnica della limatura zone che mi permette di ottenere una struttura di ricostruzione levigata ed uniforme sottile e resistente applico due stesure di nudo 7 semi permanente anche la tecnica della limatura zone è uno degli argomenti che ho approfondito nel mio corso online scrivici in privato per ricevere tutte le informazioni con pennello perfetto esego la stesura del monocolore sotto cuticola guarda come tornano le miei clienti dopo quattro settimane sulle storie del profilo instagram le unghie di micole tutti i giorni ti faccio entrare in laboratorio con me sigillo il trattamento con magic silver glitter sigillante senza dispersione e micro glitter all'interno con deco gel e pennello in punta fine setola naturale esego la nail art in superficie adesso è disponibile anche il nostro corso di nail art da salone completo con pagamento rateizzato scrivici in privato per ricevere tutte le informazioni non perdere nessun tutorial e nessuna spiegazione tecnica iscrivendoti al nostro canale di youtube le unghie di micole idrato la zona periungueale applicando olio per cuticole confrontati con altre 20.000 ragazze riguardo l'utilizzo dei prodotti della linea le unghie di micole iscrivendoti al nostro gruppo chiuso di facebook le unghie di micole scopri le tecniche per ottenere un giro cuticole pulito effettuando una salone manicure non invasiva le ho descritte sul mio manuale la ricostruzione unghie secondo micole in vendita su amazon se il video ti è piaciuto metti un like e condividi grazie